Sì, lunedì di Pasqua a Castel di Mezzo è una grande festa perché si ricorda l'arrivo del crocifisso dal mare. A Castel di Mezzo infatti è custodito un crocifisso di inizio 1400, opera di Antonio de Bonvesin, uno scultore veneto. Un crocifisso da sempre considerato miracoloso, infatti nel santuario ci sono tanti ex voto dedicati a questo crocifisso. Da quando io sono parroco nel 2011 sono stati donati tre ex voto al crocifisso proprio per grazia ricevuta. Uno di questi mi è particolarmente caro, una ragazza da poco sposata non poteva avere bambini e dopo aver fatto una novena a Santissimo Crucifisso riuscì a concepire un bambino, portò avanti la gravidanza, aveva problemi di cuore e tutti i medici gli avevano detto che la gravidanza non sarebbe andata bene invece questo bambino è nato e oggi fa la terza media e sta diventando grande. E quindi è un momento molto bello per tutto il paese. La chiesa del Santissimo Crucifisso custodisce anche un'altra opera importante, è la Palla d'altare di Girolamo Marchesi, un'opera d'inizio 1500 che ritrae Maria col bambino e ai suoi fianchi Santa Pollinare e San Cristoforo. La particolarità di quest'opera è che ci sono due Gesù bambini, quello tenuto in braccio da Maria e quello sulle spalle di San Cristoforo. È un'opera che insegna a tutti come la carità di Cristo sia il servizio dei fratelli, conoscendo la storia di San Cristoforo questo risulta evidente. La festa si struttura al mattino con le messe ad ogni ora a partire dalle sette e mezza fino alle dieci e trenta, con sempre dei sacerdoti disponibili per la confessione. Poi nel pomeriggio alle quindici e trenta ci sarà una bella processione con l'urna della Santa Martire Vittoria, la Santa del Santuario, una martire romana. Le cui reliquie arrivarono a Castel di Mezzo nel 1877, poi dopo la messa delle sedici e trenta ci sarà la banda di Fiorenzuole Colombarone che aglietterà tutti e sarà distribuito vino e pagnotta di Pasqua per tutti.